Il filone in particolare dell'indagine riguarda esclusivamente gli aspetti economici e subito dopo la definizione della parte riguardante l'associazione e l'attività dell'associazione abbiamo ritenuto anche perché l'attività criminale era in corso di definire questo filone. Abbiamo approfondito gli elementi che ci risultavano già da atti documentali in nostro possesso e attraverso anche attività tecnica e modo di intercettazione siamo riusciti a dare un senso alla documentazione che era in nostro possesso e abbiamo voluto appurare che l'attività era ancora in corso con indicazioni che venivano dal carcere.